Siamo attrezzati per arrivare puntuali a questo appuntamento che vede arrivare in Sicilia già da subito 1 miliardo e 213 milioni. Sono destinati ad interventi infrastrutturali sulle strade, autostrade, sulle ferrovie e sull'idrico. Il tema acqua finalmente torna centrale nella politica della regione per un'assenza di oltre 20 anni. Guardiamo avanti con fiducia, i cantieri potranno essere aperti, attraverso il CAS lavoreremo per riqualificare le autostrade di nostra competenza, le altre sono dello Stato. Guardiamo avanti con ottimismo e credo che il peggio sia già passato. Queste sono la prima tranche di alcune somme che speriamo anche di incrementare con le altre fonti di finanziamento, per esempio nel PNRR. Per quanto ci riguarda queste rappresentano un gran risultato che fa riferimento sia alle dighe e quindi chiaramente sono degli interventi di titolarità della regione siciliana, altre fanno riferimento alleati e quindi fanno riferimento a degli interventi a livello comunale oppure di sovrambito come nel caso di Gela. Finalmente l'autostrada del sud-este è una realtà, non soltanto aver inaugurato il primo tratto autostradale che da Rosolini arriva a Ispica, ma in questi giorni faremo un ulteriore sopralluogo per capire appunto lo sviluppo dell'autostrada che da Ispica arriva a Modica. Vi accorgerete che già i primi cinque chilometri e mezzo sono stati tutti realizzati. Ci accorgeremo che entro fine anno potremo aprire anche i dodici chilometri e in più iniziare a mandare in gara anche l'ulteriore appunto tratta autostradale che da Modica arriverà a Scicli. Nel frattempo, così come ha promesso il Presidente Musumeci, iniziamo la progettazione perché da Gela si arriva a ritroso verso Comiso, verso Vittoria per arrivare sino a Ragusa. Sono questi gli impegni che il Governo della Regione sta assumendo, sono questi gli impegni che porteremo a casa.